Salve, sono Patrizio Rinaldi, Senior Technical Specialist in ambito Security Compliance e lavoro per Microsoft Italia. La sessione di oggi riguarderà le tecnologie che Microsoft mette a disposizione per la sicurezza dell'identità digitale e la protezione della stessa. Ci muoviamo chiaramente in una realtà, in un presente di mondo digitale e mondo aperto alla digitalizzazione che presenta un perimetro di sicurezza notevolmente cambiato dal passato. Prima la tendenza era quella di racchiudere informazioni con test di servizi all'interno del network aziendale attraverso l'utilizzo esteso di tecniche di firewalling. Oggi queste tecniche non sono più sufficienti per garantire un assetto di lavoro che va sempre di più verso una digital transformation estesa e quindi la necessità di garantire contesti di collaborazione che valicano le frontiere del network aziendale. La situazione che ci troviamo ad affrontare in termini di sicurezza, dovendo pur abilitare questi contesti di collaborazione, è una situazione preoccupante. Gli attacchi e il mercato degli attacchi è in crescente aumento e lambisce tutti gli ambiti, tutti i settori di mercato che chiaramente devono proiettare i propri servizi in un contesto effettivamente rischioso come quello del World Wide Web e esistono in questo molteplici soluzioni, spesso verticali, anche di notevole pregio, che però hanno il difetto di non parlare fra loro e quindi lasciare che alcune minacce, alcuni comportamenti anomali possano passare fra una soluzione e l'altra. L'approccio di Microsoft, con una possibile soluzione al problema, è quello di integrare il più possibile tutti i servizi affinché si parlino fra di loro e si possano quindi rilevare in tempo reale effettive minacce alla sicurezza del nostro contesto informatico. In più, Microsoft sposa una filosofia che sposta e fa leva fortemente sulle capacità del cloud, capacità computazionali del cloud per riuscire a individuare nel minore tempo possibile, attraverso l'utilizzo esteso di algoritmi di machine learning, servizi di analytics avanzati, eventuali minacce e contrastarle andando a intervenire prontamente sul problema. Come è possibile dare una base solida di intervento e di capacità di analisi ai nostri sistemi? Noi lo facciamo raccogliendo comportamenti che rileviamo su tutte le nostre piattaforme erogate e i servizi erogati in tutto il mondo. In questa slide vengono riassunte in modo assolutamente indicativo le quantità di dati che i nostri servizi analizzano e che devono soddisfare durante una normale giornata del business di Microsoft. Riuscendo a percepire, catturare, analizzare i segnali, la segnaletica, l'atteggiamento, la caratteristica, ad esempio degli accessi ad un servizio, Microsoft attraverso l'affinamento di tecniche di detection avanzata che utilizzano, lo dico ancora una volta, algoritmi di machine learning finemente ottimizzati per questo mestiere, noi riusciamo a intercettare i possibili rischi e intervenire prontamente. In questa slide vengono riportati i pillar attraverso i quali Microsoft identifica le componenti fondamentali che dovrebbero essere proprio di una soluzione, di un framework di sicurezza che abbraccia tutti gli ambiti della vita digitale delle persone. Si parte chiaramente dalla parte di identity and access management, che poi sarà oggetto specifico di questa sessione, per passare a una più specifica caratteristica di threat protection, quindi strumenti avanzati per individuare in maniera capillare eventuali comportamenti anomali e riuscire a mitigarne rischi e effettivi danneggiamenti, per poi passare a soluzioni di protezione delle informazioni e gestione della compliance dell'organizzazione, per chiudere con una necessità endemica, che è quella di riuscire a gestire tutte le soluzioni che fanno parte di questi pillar in maniera orchestrata. E quindi ritorniamo al discorso iniziale del riuscire a far parlare fra di loro le varie soluzioni di sicurezza. Nello specifico, durante la sessione di oggi, andiamo a analizzare le caratteristiche della soluzione che gestisce la identity digitale degli utenti e andremo poi anche a parlare di alcune soluzioni di sicurezza, una parte delle soluzioni di sicurezza proprio dedicata alla rilevazione di attacchi relativi all'identità digitale aziendale dell'organizzazione. Quando ci si proietta nel discorso della gestione di un'identità, si va a lambire un aspetto fondamentale della nostra vita digitale. L'identità è effettivamente il primo strumento che noi utilizziamo per accedere a un servizio. È l'entità che ci permette di essere riconosciuti, che ci permette di essere associati ad un profilo e quindi di accedere a dei servizi in una maniera contestualizzata. Quindi parliamo di identità digitale e parliamo di necessità di gestire il ciclo di vita di un'identità digitale e la sua profilazione. In questo lo scenario che ci si prospetta di fronte in una realtà di digital transformation è rappresentato sommariamente in questa slide dove a partire da diversi contesti di servizio potremmo ad esempio avere un'identità locale gestita ad esempio con un Active Directory o con un LDAP di altri tipi che deve poi in qualche modo relazionarsi ad altri servizi di tipo SAS e alla gestione anche di postazione di lavoro di diversa natura. In questo contesto Microsoft Azure Active Directory è l'identity provider che Microsoft propone come soluzione ed è l'identity provider alla base di Office 365 ma che può essere poi utilizzato anche in contesti cloud e non solo, poi vedremo, di terze parti. Stando a significare che è un'identità ibridizzata tramite Azure Active Directory ovvero valida sia nei contesti locali che nei contesti cloud attraverso diverse metodologie e scenari e architetture di messa in relazione fra l'identità locale e l'identità cloud può essere poi utilizzata questa identità anche su contesti di applicazioni non Microsoft ce ne sono alcune elencate nel quadrante giallo in alto a destra mantenendo che cosa, ottenendo che cosa, la capacità di effettuare il single send on a diversi contesti operativi. Ottenere il single send on in termini di sicurezza significa ridurre la superficie d'attacco significa riuscire a non dover dare più utenze e password a un utente che poi tipicamente quando deve gestire molteplici credenziali può commettere degli errori di protezione delle credenziali stesse e che ci portano la necessità di dover gestire più contesti di autenticazione a dover spezzettare le nostre forze dedicare le nostre forze a proteggere tanti ambienti differenti che potrebbero avere standard di sicurezza completamente differenti riuscire invece a sintetizzare in un'unica identità digitale tutti i contesti di servizio a cui l'utente deve accedere significa riuscire a concentrare, poter concentrare le proprie capacità di mettere in sicurezza quell'identità e farlo al meglio e poter anche monitorare in maniera molto più efficace come viene utilizzata, da chi viene utilizzata quella identità digitale in questo contesto una delle accezioni più innovative che in realtà è un trend tecnologico abbastanza diffuso che viene sposato apertamente dalle soluzioni Microsoft e quindi anche da Azure Active Directory è un approccio tipicamente zero trust ovvero attraverso tante soluzioni che Azure Active Directory mette a disposizione tutte integrate fra esse io non concedo mai un accesso perché mi fido di qualcosa a priori ma entro sempre nel merito di chi mi sta chiedendo un accesso, una informazione per poi concedere lì dove dovessero essere soddisfatti i requisiti e quindi passati i controlli di sicurezza accesso a servizi e informazioni in questo caso noi parliamo di un accesso che non è mai come dire trusted, federato e quindi diciamo di fiducia ma è un accesso che è sempre verificato e qual è uno degli strumenti principali per la verifica continua di questi accessi ai servizi? è il concetto di conditional access che incorpora all'interno di un motore di intelligenza che permette di verificare la situazione dalla quale sta provenendo la mia richiesta di autenticazione in base a tanti fattori che devono essere poi verificati quindi ho la possibilità di andare a decidere quali sono le situazioni da cui un utente può accedere a un determinato servizio in termini di locazione geografica e all'interno o all'esterno di una rete sta utilizzando un dispositivo di cui mi fido perché all'interno di quel dispositivo sono presenti determinati software che me ne garantiscono l'integrità oppure al contrario non sono presenti quei software e quindi non mi fido l'utente sta facendo comportamenti sta assumendo comportamenti non consoni al suo stile diciamo di comportamento quindi alla sua tipica postura di utilizzo di un servizio tutte queste informazioni vengono utilizzate per calcolare un livello di rischio della sessione e associare a questo livello di rischio una possibile azione di mitigazione l'azione di mitigazione potrebbe essere non permetto a un utente che accede da una locazione geografica non trusted o che sta facendo impossible travel quindi lo vanno da Roma e poi da Milano nel giro di pochi secondi quindi con un comportamento anomalo quindi blocco questo tipo di accesso piuttosto che invece di bloccare vado a intervenire con delle azioni di mitigazione come la richiesta di una multifactor authentication prima di accedere piuttosto che la possibilità di limitare come l'utente in quella situazione può interagire con i sistemi ad esempio ponendo delle delle interfacce in sola lettura senza la possibilità che l'utente scarichi il contenuto a cui sta cercando di accedere il concetto di conditional access è quindi basilare per riuscire a governare gli atteggiamenti le posture di sicurezza che io voglio imporre sul pilastro dell'identità digitale al concetto di conditional access associamo il servizio di multifactor authentication anche questo erogato da Azure Active Directory che è un provider di multifactor authentication a livello internazionale e che può erogare il servizio attraverso diverse modalità quindi attraverso un'applicazione installata su un dispositivo a scelta attraverso degli sms o delle chiamate vocali attraverso l'integrazione di token che possono essere hardware piuttosto che software un altro servizio che mi permette di gestire meglio la postura di sicurezza della mia infrastruttura in termini di gestione dell'identità è quello del self-service password reset anche qui il percorso di un reset di una password spesso è immediato da una chiamata una chiamata che potrebbe essere non veritiera che potrebbe comportare che l'help desk vada a cambiare la password per conto dell'utente e quindi conosca per un determinato frangente di tempo la password dell'utente la soluzione che Microsoft mette a disposizione che Azure Active Directory mette a disposizione è una soluzione che offre un portale web al quale l'utente può riferirsi lì dove la sua password venga dimenticata oppure l'account venga bloccato prima di accedere all'effettivo cambio della password o sblocco dell'utenza l'utente deve dimostrare di essere se stesso attraverso la verifica di molteplici fattori di autenticazione quindi ad esempio posso richiedere all'utente di doversi autenticare in maniera forte con un codice OTP e anche di rispondere a delle domande con risposta segreta piuttosto che ricevere una mail attraverso un indirizzo precedentemente verificato o immettere un codice che il servizio veicola tramite un SMS o una chiamata abbiamo parlato di self-service password reset parliamo però anche di ciò che Microsoft sta portando sul mercato per evitare in toto l'utilizzo di una password come saprete esiste un trend tecnologico che ci dice che la password in sé ormai non è più un'effettiva protezione di un'identità digitale Microsoft è da tempo si sta muovendo nell'ottica di non utilizzare più le password come metodo di autenticazione neanche come metodo di autenticazione primario e quindi ad esempio all'interno di alcuni dispositivi e all'interno di Azure Active Directory c'è la possibilità di utilizzare Windows Low che offre un riconoscimento biometrico per diciamo autenticarsi ai servizi e alle postazioni piuttosto che utilizzare tecnologie di multifactor authentication come primo fattore di autenticazione c'è inoltre da dire che Azure Active Directory e i sistemi operativi Microsoft sono compatibili con le security key a standard Fido 2 non solo le security key anche altri anche altro hardware sempre standard Fido 2 che garantiscono proprio la possibilità di una molteplice autenticazione senza l'utilizzo della password come fattore primario di autenticazione in termini di gestione avanzata dell'utenza Azure Active Directory offre inoltre anche la possibilità di gestire in modalità just in time e con il minimo dei privilegi assoluti le utenze che sono più diciamo delicate all'interno di un servizio all'interno di un'infrastruttura tecnologica in questo caso parliamo di un servizio che si chiama Privileged Identity Management e che sposa questa filosofia l'utente potenziale amministratore di un servizio non deve essere sempre amministratore di quel servizio ma deve essere amministratore di quel servizio solamente quando ne ha bisogno e quindi è possibile utilizzare Azure Active Directory per concedere a un sottoinsieme di utenti possibili privilegi eventuali privilegi che l'utente andrà a utilizzare solamente quando sarà necessario e solamente dopo aver magari affrontato un percorso di approvazione quindi un workflow una mail che arriva a un amministratore terzo che dovrà autorizzare quell'utente a diventare amministratore di un determinato servizio l'utente a quel punto diventerà amministratore qui c'è riportato in maniera generica il Global Administrator ma in realtà possiamo definire che l'utente può diventare amministratore di Exchange di SharePoint di tutti i servizi in maniera molto capillare l'utente diventa amministratore opera come amministratore per un determinato periodo di tempo dopodiché ritorna ad essere un normale utente con l'obiettivo anche qui di ridurre la superficie di attacco in termini di tempo in cui gli utenti e amministratori sono operanti sul sistema considerate che in virtù dell'integrazione di tutti i servizi che vi ho citato prima la gestione dell'identità privilegiata si integra con la multifactor authentication quindi quando un utente passa dallo stato di normale utente a amministratore di un determinato servizio scatta di default la necessità di utilizzare quindi di riconoscersi attraverso uno step di multifactor authentication parlando di ciò che invece avviene a garanzia prevenzione di attacchi sulla identità dell'utente Azure Active Directory facendo leva su quello che vi raccontavo prima ovvero sulle capacità di rilevazione di anomalia di utilizzo degli utenti quindi ad esempio un utente di cui ho trovato password o menzione in siti del dark web piuttosto che un utente che è stato utilizzato per dei tentativi di brute force piuttosto che utenti che stanno utilizzando i sistemi in modalità sospetta ovvero fuori da un orario lavorativo canonico piuttosto che provenendo da IP o postazioni differenti dal solito tutte queste informazioni possono essere correlate e aumentano il grado di rischio dell'utente che può essere bloccato oppure invitato ad esempio a fare un reset della password o a effettuare dei challenge multifactor authentication come vi dicevo questo è uno degli strumenti che ci permette di andare dinamicamente a impostare i livelli di sicurezza del nostro ambiente di gestione dell'identità perché in maniera proattiva garantisce una risposta a una situazione che può variare quindi non c'è una polisi prestabilita che mi dice se l'utente fa questo allora fai questo ma c'è un calcolo in tempo reale del livello di rischio di quella sessione di lavoro che mi permette di prendere delle contromisure andando a richiedere all'utenza una differente modalità di autenticazione e chiaramente segnalando il problema agli amministratori nell'ottica di garantire il single sign on più possibile e di proiettare tutti i servizi di sicurezza come il conditional access l'identity protection che abbiamo visto fin qui anche su applicazioni non cloud based Azure Active Directory offre inoltre la possibilità di pubblicare sul web delle applicazioni legacy che magari sono all'interno del proprio data center e di cui tipicamente si fa accesso o solo all'interno della rete oppure attraverso una VPN considerato il fatto che le VPN sono uno dei veicoli principali di possibilità di attacco quello che noi sposiamo è una possibilità di esporre queste applicazioni direttamente sul web frapponendo però i servizi di protezione dell'identità di Azure Active Directory all'accesso effettivo all'applicazione come funziona questa soluzione che si chiama Microsoft Application Proxy attraverso un connettore che viene installato all'interno dell'infrastruttura quindi dove è pubblicata l'applicazione questa applicazione viene proiettata su Azure Active Directory che mette a disposizione dei reverse proxy che pubblicano poi l'applicazione sul web questo sposta quindi il problema del dover aprire la propria infrastruttura quindi aprire firewall dotarsi di strumenti di prevenzione di attacchi tipo di DOS brute force e quant'altro sposta tutto su Azure Active Directory che chiaramente è già dotata di per sé di strumenti di protezione dagli attacchi che vi dicevo prima e in più mi permette attraverso un processo di preautenticazione dell'utente di applicare anche un'applicazione che nativamente non supporterebbe la modern authentication quindi la multifactor authentication il conditional access e quant'altro questa soluzione mi permette di applicare anche a un'applicazione legacy soluzioni intelligenti di quel tipo fondamentale rispetto la necessità di mantenere una buona gestione dell'identità e quindi una capacità di capire chi sta accedendo a qualcosa e la possibilità di governare con un processo end to end quindi dalla creazione alla dismissione l'utenza Azure Active Directory attraverso il concetto di identity governance mi permette di creare regole per le quali gli utenti quando vengono creati vengono anche provisionati su altre possibili applicazioni integrate in Azure Active Directory in varie modalità mi permette di dire chi ha accesso a che cosa e a che livello quindi la profilazione non solo l'autenticazione a livello applicativo ma soprattutto mi permette anche di inaugurare all'interno dell'infrastruttura delle logiche di self-service provisioning quindi al di là del subset di strumenti applicazioni appartenenza a gruppi che io imposto al mio utente appena nasce sul mio directory io poi posso anche dare lui la possibilità di richiedere accesso a determinati gruppi o applicazioni in maniera self-service chiaramente queste richieste possono essere mediate da un workflow di approvazione e soprattutto queste richieste e le approvazioni vengono poi riviste in intervalli di tempo attraverso quello che si chiama access review che in maniera proattiva richiedono all'utente se ad esempio dopo un anno o due anni in base alle polisi definite dall'amministratore l'utente ha effettivamente necessità di mantenere l'accesso a quell'applicazione a quel gruppo in base a regole che si possono definire l'utente ha un tot di giorni per rispondere alla richiesta di verifica e ci sono polisi che ne bloccano piuttosto che mettono in quarantena piuttosto che concedono continuano a concedere l'accesso fino a che un amministratore non ha rivisto il case e quindi approvato o negato l'autorizzazione abbiamo parlato all'inizio di come il contesto diciamo della realtà digitale si sia estremamente complicato ramificandosi anche con una collaborazione estesa che spesso valica le frontiere della mia organizzazione Azure Active Directory mette a disposizione due modalità di integrazione dell'identità digitale della propria organizzazione nei confronti anche di identità digitali che potrebbero far capo a organizzazioni esterne quindi ad esempio attraverso la logica del business to business io posso invitare utenze che non fanno parte del mio directory attraverso proprio un processo di invitation si manda una mail a un indirizzo che deve essere certificato l'utente deve riscattare questo invito e una volta che l'utente ha riscattato questo invito che ad esempio può essere mandato su una mail esterna pippo at google punto com gmail punto com e l'utente riceverà una mail di invito riscatterà questo invito si registrerà sul mio directory e con le sue credenziali pippo at gmail punto com e una password che andrà a definire potrà accedere ai miei servizi quando viene effettuata questo questo tipo di registrazione di un utente che in questo caso diventa un utente guest quindi un utente ospite su quell'utente guest io posso operare alla stregua del fatto che fosse che sia un utente interno quindi si crea un oggetto utente esterno utente guest io posso associare a quell'utente applicazioni posso associare a quell'utente policy di sicurezza ad esempio per imporre lui una multifactor authentication prima di accedere a un mio servizio ancora sempre nell'ottica di estendere il concetto di identity provider anche a un mondo più elevato e a dei contesti anche magari consumer Azure Active Directory offre anche una soluzione di business to consumer directory che mi permette di integrare diversi identity provider all'interno di un contesto di riconoscimento e profilazione applicativa quindi io posso far sì che un'applicazione che viene integrata in Azure Active Directory faccia però poi capo a un identity provider differente da Azure Active Directory mantenendo che cosa la possibilità di controllare la sicurezza degli accessi all'applicazione quindi benché io faccia riferimento a un identity provider esterno prima di accedere di far accedere il mio utente a una applicazione che io gestisco posso imporre lui delle verifiche supplementari o l'utilizzo ad esempio del conditional access di cui abbiamo parlato in precedenza l'utilizzo HIV l'utilizzo l'utilizzo